ci colleghiamo con il nostro pedalatore stanco con vincenzo cervi vincenzo dove sei adesso buongiorno ciao ciao a tutti adesso mi trovo a praticamente a salerno salerno caspita quanti chilometri fatto finora perché il allora dobbiamo dire una cosa che il collegamento non è perfetto ti vedo un po a spizziche bocconi è in questo in questo momento quindi non è non è perfettissimo quindi sei a salerno quanti chilometri fatto vincenzo penso di essere tirato le somme però sarò poco distante dai mille otto e beh insomma te ne mancano ancora un po di chilometri ti chiedo ovviamente come stai vincenzo perché non ci siamo sentiti settimana scorsa come è andata in sardegna in sardegna ho avuto un po di problemi soprattutto meccanici mi si è rotta un po la bici è un problema adesso perché non ci sono ricambi non c'è non ho trovato nulla poi qualche modo tirato insieme la bici sono partito aspetta aspetta vincenzo quali sono questi problemi tecnici vediamo se i nostri ascoltatori ti possono aiutare cosa ti manca la catena non lo so dimmi dimmi vincenzo si sono rotti due raggi mi si è stortato poi non ho trovato subito il ciclista mi si è stortato il cerchio posteriore col peso e praticamente non potevo più pedalare e ho dovuto fare un bel po di telefonate e addirittura ho trovato un ciclista fantastico a oristano però a oristano sono stato costretto a prendere il treno arrivare a oristano e mi ha costruito fisicamente due raggi ma scusami aspetta fermati un attimo tu eri quando hai avuto questo problema in sardegna sì 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 cioè e in sardegna non c'era un ciclista che potesse sistemare un cerchione di bicicletta cioè non ci posso credere fuori periodo è tutto un po chiuso e addirittura a olbia ho fatto tre ciclisti più sono andato al decathlon e che poi non mi passava dall'altro e non c'è stato verso le con le ruote 26 nessuno aveva i raggi e non so nessuno costruiva raggi nessun artigiano poi mi sono messo a telefonare poi in giro e fra i vari ciclisti che mi sono salti fuori con la ricerca su google ho trovato questo che oristano che era chiuso mi ha detto che mi aspettava e ha aperto il negozio e mi ha costruito proprio fisicamente i raggi ma come si chiama cioè vogliamo senti nei prossimi collegamenti mi devi mettere in contatto con questo ciclista di oristano che è stato straordinario tabella va bene poi mi darai mi darai il numero voglio chiamarlo voglio sentirlo perché è stato veramente incredibile c'è lui da oristano ha visto il tuo il tuo messaggio cioè io lo voglio aiutare mi ha detto un ciclista non si lascia mai a piedi ma applauso questa ragazzi questa è l'italia questi sono gli italiani straordinari ma è bellissimo perché orista c'è oristano dov'è in provincia di di che cosa dove stiamo a oristano in puglia dov'è oristano a metà svegna lato ovest a ok ok quindi stavo pensando che da tutt'altra parte quindi ti ha sistemato sostanzialmente questo questo problema che tu avevi poi sono riuscito finalmente a ripartire che era un bel problema perché non mi permetteva più di muovermi e sono ripartito sono nato cagliari li ho avuto mi sono perso nei nelle strade della sardegna e vabbè questa è colpa questa è colpa tua però è questa è questa è dico che a un certo punto il navigatore mi ha fatto andare su una strada che è diventata premessa ho fatto 30 chilometri ho incontrato un motorino e un maneggio dove c'erano solo cavalli non ho visto persone quindi eri nel deserto in quel momento eri da solo disperso nella sardegna però questo guarda è bellissimo questo racconto che ci stai facendo fa capire quanto è complicato dover decidere di fare 7000 chilometri quindi adesso che il navigatore mi dice prendi quella strada qua a un certo punto la strada diventa sterrata a un certo punto mi fa entrare in un canale asciutto ma era proprio un canale e a un certo punto mi dice di uscire da questo canale ma il problema che c'era un sentiero che da detta di google ma per una strada che a un certo punto arriva in mezzo a un prato e si esaurisce e lui mi dice di continuare di proseguire ma sai quanti non solo si sono persi caro vincenzo quanti sono caduti perché la strada non c'era è un burrone quindi bisogna fare molta attenzione vabbè adesso problema risolto sei tornato nella penisola sei a salerno dove dove salerno sono a sud di salerno circa un 12 chilometri più o meno e oggi vado faccio la costa amalfitana perché c'è stato un problemino ancora a vicenda una serie di problemi soprattutto atti all'acqua e allora quando ero a roma per fare da un campeggio a uno che avevo fissato e in teoria erano 46 chilometri ma purtroppo sono inciampato in una zona dove ci sono solo super strade autostrade e non esisteva una strada alternativa ho chiesto anche alcuni ciclisti che ho trovato tra l'altro mi spiace poverini che hanno una pista ciclabile di 6 chilometri in quella zona lì e continuano avanti e indietro a fare questa l'unica pista ciclabile che c'era mi hanno detto e consigliato da due di questi ciclisti mi hanno fatto fare tutto un percorso per riuscire poi a circunnavigare un po' in sezzo roma in pratica da 46 chilometri alla fine ne ho fatti 80 ho capito va bene hai raddoppiato ma ormai ce l'hai nelle gambe senti quando ti fermi lì ad amalfi in costiera fai un bagno per noi fermati cosa c'è lì positano sì qua mi stanno dicendo ma oristano fa provincia se ho capito ragazzi non è che si può conoscere tutta la geografia ecco mi sono confuso un attimino oristano in sardegna va bene allora senti vincenzo intanto grazie buon viaggio per oggi mi raccomando saluta tutti i tuoi amici che magari erano preoccupati non avendo la trasmissione si saranno chiesti ma che fine ha fatto il nostro pedalatore stanco pedalatore stanco ci sentiamo in settimana poi ti dirò il giorno mandami delle foto delle immagini qua ti tirano anche un po le orecchie dice io ho più di 40 anni di attività ciclistica avrei risolto il problema perché anche io ho rotto due raggi e ho sistemato la ruota semplicemente mollando i raggi che tirano tutto lì ma probabilmente tu lo sapevi questo non l'hai fatto i tre quattro raggi che sono intorno a quello rotto ma ho fatto qualcosa come sei chilometri circa e poi ragazzi perché purtroppo il peso è notevole che grava sulla ruota certo certo allora però è una cosa che è preventivata la rottura dei raggi sapendo che il peso che porti vabbè poi è facile fare i criticoni no intanto che non si pedala qua ragazzi bisogna pedalare non c'è niente da fare allora vincenzo ci sentiamo nei prossimi giorni vuoi salutare giusi e tranquilla giusi sicuramente giusi si ci siamo sentiti anche ieri anche perché qua ogni tutti i giorni piove ma vedo il sole vedo il adesso la bandierina c'è ancora la bandierina c'è ancora resiste vincenzo aspetto le foto qualche biglietto che tu fai e poi ci sentiamo nei prossimi giorni con vincenzo mi hai fatto tardissimo grazie vincenzo buon viaggio buona pedalata mi raccomando sorriso sempre colazione con radio alta radio alta